Buongiorno a tutti, appena passata la postina mi ha portato un pacchettino di Aliexpress che aspettavo, ne aspetta ancora altri, prima o poi arriveranno tutti, chissà quando però diciamo che piano piano arrivano e niente, oggi sarà una recensione su acquisti creativi e ve li vado subito a mostrare chiaramente i prezzi non me li ricordo, provvederò se ancora disponibili a mettervi il link in descrizione allora, le prime cose che ho comprato sono queste spille per capelli queste basi per spille per capelli perché voglio metterci sopra degli inserti in raso ne ho prese 5 non mi ricordo il prezzo ma mi sembra intorno non ho superato i 2 euro comunque, credo non so sicuro, mi vorrei dire cavolate poi ho preso delle basi per lavorarci con le perline sopra ne avevo già usata una nel cerchietto che ho fatto per Natale per fare il centro del fiore e sono fatte così sono forelate, si possono usare sia in questo senso che nell'altro sono leggermente concave e queste sono da aspettate che prendo il righello perché non mi ricordo queste sono da 1,5 le più piccole volevo provare a farci anche magari degli anelli però so che vendono direttamente le basi ce ne ho già una qua e quindi sono più propensa ad acquistare le basi già fatte prima o poi dovrò prenderle perché non più che 2 o 3 poi le ho prese anche di altre due misure da 1,5 era la più piccola questa è 1,8 cm e per finire ho preso queste qua che sono le più grandi scusate sono mal di sonaco non volevo venuta e queste sono da 2 magari mi avvicino vedete anche queste credo di aver pagato intorno ai 3 euro tutto ma non sono sicura devo andare a vedere se trovo ancora i link come vi ho detto vi metterò tutto in descrizione ce n'è un bel po' mi sembra una ventina a pacchetto quindi per un po' dovrei essere a posto e mi è arrivato tutto insieme perché ho preso tutto lo stesso venditore quindi molto probabilmente vi metterò direttamente il link del venditore così potete andare a spulciare e cercare quello che vi serve e niente queste erano le ultime cosette che mi sono arrivate dall'Express vi auguro una buona giornata ciao